Amici dell'InterClet di Reggio Emilia, i cuori neri azzurri, benvenuti a una nuova puntata di C'è solo l'Inter per Re, ovvero Reggio Emilia. Conduce il giornalista Carlo Codazzi e regia di Claudio Beltrami. Come sempre, ovviamente, un ospite in studio, d'eccezione. Buona visione. Amici, i cuori neri azzurri di Reggio Emilia, benvenuti a C'è solo l'Inter per Re, ovvero C'è solo l'Inter per Reggio Emilia, ma anche non c'è solo l'Inter per Reggio Emilia. Come parleremo con Davide, che è il titolare di Estrade, che ci ospita per questa puntata. Bentrovato Davide nel 2017. Bentrovati a tutti voi. E l'ospite, che è un grandissimo atleta, che è stato con noi tante volte in questi anni, Ciro Di Palma, ex nazionale di ultramaratona. Buonasera a tutti e forza Inter. E forza Inter, perché Ciro palpita di nero azzurro come noi del resto. Allora, facciamo un po' di intervista doppia. L'Inter sta andando alla grande, mentre invece la Reggiana, di cui sono tifosi tutti, ma in particolare lo è Davide, è scivolata al quinto posto e ha cambiato l'allenatore, ha cambiato un po' di giocatori, mentre l'Inter è arrivato Gagliardini. Allora io chiedo subito intanto a Ciro un veloce parere sull'acquisto di Roberto Gagliardini. Gagliardini è stata una piacevolissima sorpresa, perché l'anno scorso non è che avesse brillato in Serie B, però ha fatto un inizio di campionato a Bergamo molto buono e da noi si è confermato su livelli altissimi. Pioli gli ha dato subito fiducia, maglia da titolare e lui ha fatto delle partite stupende. Benissimo. Invece io a Davide intanto vi chiedo di far vedere, se venite da Estre, trovate anche la possibilità di acquistare queste maglie perché è tifa Reggiana, è molto bella, è un personaggio che vuole come lo dici tu. È Mark Lenders, famoso della serie Oli e Benji, che ha giocato effettivamente nella Reggiana, perché a fine puntata lui è stato acquistato dalla Reggiana in quello che era lo Stadio Giglio, fu sorpreso di vedere uno stadio così in Serie C e da lì si rilanciò e diventò capo a Caloniere, e portò la Reggiana in B all'epoca in C. Quindi c'è una serie video e c'è anche una serie, soprattutto fumetti, che narra di tutta questa storia dove l'allora autore ha scelto proprio Reggio Emilia per far sì che Mark Lenders inizasse questa sua avventura italiana. Allora abbiamo ricavato questa t-shirt che è in vendita a 16 euro con Mark Lenders che ha giocato la Reggiana e lo slogan è chiaramente Dai Candom. Dai Candom, perché adesso andai un po' piano ultimamente. Benissimo, quindi qua abbiamo questo... speriamo che porti bene, che Mark Lenders ha portato la Reggiana dalla CLAB, non so, e Rivarola porta la Reggiana? Ecco, speriamo che l'acquisto di Rivarola è sicuramente molto importante per la categoria, è un prospetto sicuramente molto interessante, è cantera del Barca, quindi ha giocato addirittura, ha fatto qualche presenza nel Barca, poi è stato al Bologna dove ha fatto un paio di presenze, Vitesse adesso ha giocato gli ultimi due anni a Foggia, anche bene, facendo dei gol veramente di pregevole fattura. Speriamo che si consacri a Reggio per rilanciare la sua carriera. Tra l'altro è stato presentato proprio oggi, Rivarola al centro di Via Agosti, assieme a Carlini, l'altra punta, l'altra attaccante, che è la novità di mercato della Reggiana, che ha ceduto Nolè, ha ceduto Falcone, mi sembra ceduto Via La Fuente, Mogo, San Giulli, questi sono dei pezzi importanti, è arrivato Genevier come regista e sono arrivati appunto Carlini in attacco, assieme a Rivarola, adesso manca un terzino destro, sicuramente questo arriverà, e probabilmente anche un altro rinforzo a centrocampo. Bene, invece per l'Inter c'è stato la Gazzetta dello Sport che ha pubblicato un articolo con tutti i movimenti che verranno fatti da giugno, perché l'Inter pensa in grande da giugno, adesso cerca di raggiungere la zona champion. Allora io ti chiedo, velocissimamente, quante possibilità ha l'Inter di arrivare in Champions League, se la Coppa Italia può essere un traguardo fattibile, e come vedi i movimenti di giugno che sono, li riassumiamo brevemente, portiere italiano di riserva, se resta Andanovic oppure titolare, tipo Perin, se Andanovic avrebbe scegliato di andare, altrimenti abbiamo Cragno, Mere, come possibili riserve, poi abbiamo Manolas come difensore centrale, Rodriguez, mi sembra, e Versalico come terzini, possibili, e abbiamo a centrocampo, si punterebbe Verratti, sono io a Verratti e lo sfivassi un profilo diverso che era ex Inter Benassi, in attacco un top player straniero tra Aghiero, Sanchez e James Rodriguez, e uno tra Berardi e Bernardeschi. Beh, troppa carne a cuocere, no? Allora la Coppa Italia deve essere, deve essere priorità assoluta per l'Inter, perché è un trofeo al quale teniamo. Le possibilità di andare in Champions, secondo me, non sono tante, perché abbiamo perso troppi punti in avvio di campionato, però ci sono, noi cerchiamo di giocare le nostre fisce al tavolo in modo autorevole, no? La squadra adesso sta girando nel modo giusto, si vede che prima i ragazzi erano contro gli allenatori, perché non può essere una cosa del genere. Pioli, sì, li mette bene in campo, però si vede che rimano tutti adesso nella stessa direzione. E per quanto riguarda i futuri acquisti, si sta lavorando molto bene, si sta lavorando molto bene perché il gruppo Suning è un gruppo molto serio, e sta facendo anche delle acquisizioni di altre società che potrebbero diventare satelliti dell'Inter, come così un lavoro che ha fatto anche il Manchester City, e ancora un'altra società che adesso mi sfugge il nome, quindi stanno lavorando per il futuro. Un attaccante che a me piacerebbe vedere all'Inter è Aghero, è Aghero, assolutamente. Poi secondo me mancano due esterni difensivi di qualità, di qualità, ma devono essere dei top player. Andanovic io lo terrei ancora, punterei su un giovane da far crescere e da lanciare nella mischia da due anni. Purtroppo Mattia Perin ha già subito due infortuni, e mi sembrerebbe un po', cioè se prendi Perin lo devi far giocare. E poi un regista, io punterei su Verratti, assolutamente su Verratti, è il top. Bene, domandini invece qua sulla Reggiana. La Reggiana adesso con il nuovo allenatore, questi innesti, quante possibilità di arrivare ancora al primo posto? Ormai siamo già con la testa di Peo. Allora, al primo posto obiettivamente pochi. È chiaro che c'è la curiosità di capire come risponderà la squadra. Ecco, questo è veramente già dalla partita di Domenico a Sant'Arcangelo, capire un attimino come rispondono i nuovi arrivati, ma soprattutto la squadra e il nuovo mister. Poi è vero, otto punti non sono tantissimi, in sedici partite, bisogna però avere l'onestà di dire che il Venezia sta dimostrando, insomma, per qualità di giocatori e per compattezza di squadra, di meritare, dov'è, insomma. Vediamo cosa arriva dal mercato, perché sembra che oltre al terzino che nominavi tu sicuramente di prima fascia dovrebbe arrivare probabilmente anche un attaccante, si fa il nome di Corazza del Novara e quindi, insomma, potrebbe essere anche un o Fabinho del Vicenza, quindi potrebbe essere anche un arrivo importante, ecco, e quindi dare un'ulteriore marcia in più alla Reggiana, insomma. Vediamo di piazzarsi comunque il meglio possibile per poi valutare l'eventuale griglia dei play-off. Vedremo. La squadra poi va fatta anche di un portiere, difensore, centrocampista, no, perché mi sembra che prendiamo la Reggiana e punta sotto molti attaccanti. Carlini, Riverola, adesso Corazza, vabbè, è vero che ne sono anche partiti. Scusate, bene, allora adesso io vi faccio una bella domanda, meglio De Bur o Colucci? Meglio Pioli, meglio Pioli. Meglio Pioli, io te la faccio a te questa domanda. Colucci, De Bur Io rispondo come Ciro, speriamo meglio Minichini, lo dobbiamo vedere. Pioli ha trovato, ci ha messo qualcosina, però dopo devo dire che ha trovato la chiave tattica e l'Inter veramente adesso è un'altra squadra, è trasformata rispetto a prima. Spero che Minichini faccia la stessa cosa che Pioli è riuscito a fare all'Inter, insomma. Speriamo che non sia troppo tardi in entrambi i casi. Sì, ma tu a cena usciresti con Colucci o con De Bur Io uscirei con sicuramente con De Bur Io direi con Colucci nel senso che mi farai raccontare qualche aneddoto di quando ero giocatore, soprattutto a Reggio quando aveva allenatore Carletto Ancelotti e quindi sarei curioso più che altro di scoprire questi aneddoti. Posso dire una cosa? De Bur è stato un signore però, eh? De Bur è stato un signore perché non è stato messo nella condizione giusta di lavorare. Lui è venuto in Italia da straniero, ha imparato la lingua in due settimane, ha fatto di tutto, ha fatto di tutto per farsi capire, signori miei. Io, l'olandese, se lo studio, impiego sei anni solo per dire buongiorno. Lui, dopo due settimane, teneva testa i giornalisti e quindi tanto ti cappella a questo signore qui. Va bene, adesso io ti chiedo intanto velocissimamente per la tua attività di ultramaratone e gli appuntamenti del 2017. Nel 2017 io ho un programma di fare una gara in Brasile da 217 chilometri sulla sabbia del sud del Brasile e poi sto portando avanti due progetti sociali, uno a Rio de Janeiro e un altro qui in Italia sempre sfruttando la mia visibilità in entrambi i paesi. invece io, Davide, invece ti chiedo per la tua attività per la stagione primavera-estate sto parlando di calzature ovviamente a meno che tu mi voglia parlare di la tua attività sportiva che non conosco se pratichi qualche sport. Che novità abbiamo? Parliamo anche dato che siamo nel settore maschile di calzature maschile. Adesso siamo innanzitutto siamo ancora nel periodo dei saldi fino a fine febbraio però da metà febbraio in avanti praticamente arriva già tutta la collezione primavera sia uomo che donna quindi la stiamo attendendo con ansia perché abbiamo anche qualche marchio nuovo tipo EA7 di Armani abbiamo fatto un campionario veramente bello di pacciotti da uomo insomma quindi siamo in attesa di ricevere fra una ventina di giorni tutti questi nuovi arrivi ecco va bene anche noi siamo in grande attesa allora io mi alzo un attimo facciamo un fuoco di fila di domande stringetevi pure finali facciamo vedere questo questi bei colori nero azzurri questi granata questo gemellaggio questo gemellaggio va bene allora io vi chiedo adesso facciamo un giochino facciamo guardate quel termine rock lento io vi dico un nome voi mi dite lento mi dite rock a seconda partiamo da come siamo partiti allora a te chiedo Colucci Colucci lento De Boer lentissimo lentissimo De Boer ecco invece Riverola Riverola spero rock rock Galliardini no rock decisamente rock decisamente rock va bene diciamo Reggiana Reggiana assolutamente spero rock rock inter rock rock in questo momento bene e invece ci sono state delle delle novità Reggiana adesso andiamo l'allenatore nuovo Melichini cosa ti ispira ben Melichini facciamolo lavorare facciamolo lavorare bene diamogli il tempo spero rock dai non può va bene e invece se ti dico Franzone allora Franzone non è molto rock mi sembra piuttosto lento ecco nel senso che ha una flemma no che mi sembra lento insomma spero diventi molto rock ecco va bene Ausilio invece Ausilio si riesce a fare quello che le vendite che deve fare assolutamente rock bene c'è Ciro di Palma beh Ciro di Palma assolutamente rock uno che fa un ultramaratone di 217 km deve essere per forza rock lo prenderà a ritmo lento però e se invece ti dico estrella è rock spero spero per lui rock perché altrimenti qua rock assolutamente va bene io dico a Davide in chiusura una scarpa rock una scarpa rock la faccio vedere subito questo stivaletto lo facciamo tenere a Ciro stampa a cocodrillo fantastico preghiamo il nostro regista di zoomare è una scarpa molto rock assolutamente rock la suola come è fatta devo dire di ottima fattura non può essere una scarpa lenta non è una scarpa lenta cosa dici per fare i 217 km in Brasile può andare bene o meglio dopo io avrei altre location per questa scarpa qui sicuramente più adatte magari qualche giorno dopo quando ti sei ripreso in qualche locale assolutamente sì assolutamente rock come scarpa va bene ecco quando è che fai questa maratona dovrebbe essere novembre se confermano le date sono novembre facciamo il tempo a fare qualche puntata perché non vorrei che dopo Ciro no no io ho 217 km ti auguro di stare bene in salute quest'anno ne ho fatto uno di 284 Milano Sanremo l'anno scorso ad aprile quindi ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo va bene allora io invito i nostri amici che ci seguono a approfittare intanto dell'abbonamento per il giorno di ritorno che c'è ancora è ancora possibile per le partite interne dell'Inter da qui alla fine del campionato ci sono dei prezzacci approfittatene potete contattare l'Interclub Reggio Emilia al 348 299 0278 dopo le 18 oppure ci scrivete reggio Emilia nell'azzurra chiocciola gmail.com se non va derato come indirizzo di posta elettronica la nostra sede è il piccolo paradiso a canali per chi è di Reggio Emilia dintorni si fa ancora in tempo a tesserarvi a tesserarsi per 22 euro e per gli adulti sono 15 euro per i ragazzi ci sono dei gadget molto simpatici molto belli firmati FC internazionale la possibilità dopo di avere biglietti soprattutto se vi iscrivete adesso sono in vendita solo per i soci dell'Interclub biglietti di Inter Roma la partita che deve essere credo il 26 febbraio scontro importantissimo per la Champions e poi per il derby che è adesso attualmente programmato per il 19 aprile ma potrebbe essere anche anticipato Inter Milan quindi stanno andando verso il sold out due partite fondamentali il giorno di torno che saranno anche divertenti perché si affrontano queste squadre assolutamente competitive l'Inter lo è diventata il Milan lo era e la Roma pure e lo sono attualmente quindi due grandi gare mi raccomando e per chi non va a Torino a seguire Juventus-Inter che sarà la prossima trasferta dopo Inter-Pescara che si giocherà tra due giorni da quando stiamo registrando ecco per chi resta a Reggio Emilia visione della partita insieme è compizzata al piccolo paradiso mi raccomando Juventus-Inter tutti insieme seguiteci e seguite anche le nostre rubriche che inseriremo nelle trasmissioni con il parere della Miss l'ultima Miss nella stella che è Martina e il parere di un amico tecnico di Milano grande tifoso dell'Inter grande esperto di Inter un saluto a Ciro facendolo in bocca al lupo quindi per questa sua attività questo allenamento per questa maratona che c'era a novembre grazie grazie io saluto voi saluto la gente che è a casa e Forza Inter ricordiamo la società per cui tu gareggi io per Atletica Reggio Atletica Reggio che ha tanti campioncini che stanno venendo fuori e anche mi sembra una velocista molto molto interessante giusto? sì sì noi abbiamo diversi ragazzi che si stanno ponendo all'attenzione anche delle nazionali e siamo molto contenti di questa crescita ma questa crescita è anche frutto del lavoro di scouting e del lavoro dei nostri allenatori un saluto un saluto anche a Davide e bocca al lupo per i saldi per la nuova stagione Crepi il lupo buonasera a tutti un saluto agli amici dell'Inter Club e veniteci a trovare alle strade in via miglia San Pietro ragazzi alla prossima ciao forza Inter ciao ragazzi allora l'Inter sta andando veramente alla grandissima abbiamo vinto sei partite di file in campionato otto con le coppe quindi stiamo andando alla grande io invece vi aspetto il 26 febbraio a San Siro per la partita Inter Roma e vi invito già ad acquistare i biglietti che sono disponibili per il derby del 19 aprile per i soci Inter Club quindi mi raccomando ci conto e vi aspetto e a proposito cosa ne pensate di Gagliardini il nuovo acquisto dell'Inter secondo me è un centrocampista veramente competente completo che ha reso l'Inter di nuovo grande mi raccomando ci vediamo a San Siro vi aspetto un bacio amici nero-azzurri il programma è terminato mi raccomando non perdete la visione della prossima puntata che potrete seguire o sul sito www.interclubregemiglia.blogspot.com altrimenti sulla nostra pagina facebook Reggio Emilia Nerazzurra mi raccomando non mancate e tiffiamo sempre la maglia vi aspettiamo grazie a tutti